Buonasera Buonasera e ben ritrovati come promesso io e Michele non vi abbiamo abbandonati infatti Insalute è ritornata con questo speciale estivo quindi questo primo speciale del mese di giugno amici quindi siamo prontissimi per questa nuova puntata con un ospite speciale che adesso andremo per le corte e ve lo presenteremo subitissimo vi vogliamo comunque ricordare quello che è il nostro format vi ricordiamo che Insalute è un programma televisivo dedicato completamente a voi a casa quindi il nostro obiettivo è divulgare la cultura del benessere l'abbiamo fatto in questo bellissimo inverno che abbiamo passato insieme da casa ci avete dato tantissimi feedback positivi quindi noi siamo stati solo felici di fare questo programma di portare avanti questo progetto quindi vi ringraziamo nuovamente e Michi io direi semplicemente di rintrodurre questa puntata Assolutamente sì ricordiamo che per il periodo estivo Insalute andrà in onda il giovedì sera alle ore 21 e sarà una volta al mese quindi questo è il primo speciale di giugno abbiamo preparato tre super puntate per voi a casa vi ricordiamo come ha detto benissimo Tommy che se avete delle argomentazioni che volete affrontare di mandarci un messaggio perché accogliamo ovviamente le vostre esigenze e poi riparteremo con la programmazione invernale da settembre quindi vi ricordiamo che oggi introduciamo l'ospite alla fine ci sarà un quiz e come sempre chi sarà più veloce a rispondere al quiz potrà vincere una consulenza con il nostro team quindi detto questo ci siamo partiamo con lo speciale di giugno introducendo l'ospite di oggi l'ospite di oggi è una ragazza è anche una nostra amica quindi lo possiamo dire e fa una professione particolare che magari molte persone a casa non lo conoscono e quindi sarà veramente veramente interessante quindi la presentiamo subito Fiammetta Pappalardo grazie per averci essere venuta qua oggi due minuti presentati e poi andiamo a vedere cosa fai e di che cosa parleremo oggi allora io mi occupo di risorse umane e anche di life and career coaching quindi supporto le persone nel raggiungimento dei loro obiettivi personali e professionali spesso mi chiamano per la loro carriera per cambiare il percorso del loro lavoro per aumentare le loro performance altrettanto spesso invece la necessità è quella di modificare le loro abitudini di vita per un maggior benessere quindi anche proprio un work life balance differente quindi già abbiamo introdotto delle parole che magari per un sacco di termini inglesi sono un po' difficili quindi il tuo mestiere lavori per le risorse umane e sei un life and career coach quindi già per chi è a casa una cosa completamente nuova da che abbiamo identificato oggi e di che cosa parleremo oggi? oggi parleremo del cambiamento per il proprio benessere quindi cambiare le proprie abitudini per migliorare la qualità della vita e questo penso possa essere una cosa super interessante che si riporta benissimo ai temi della salute che affrontiamo sempre quante volte abbiamo visto Tommy che il cambiamento è la cosa innanzitutto che troviamo sempre in qualsiasi percorso ed è l'unica costante che abbiamo nella vita fiammetta ma per essere una persona diversa ottenere risultati diversi l'unica strada è il cambiamento e quindi qualora la persona non riesca o faccia difficoltà da solo fiammetta può essere la persona adatta per intraprendere questo anche perché abbiamo interpretato il cambiamento in tantissime forme abbiamo fatto del cambiamento fisico nella sua essenza quindi nel dimagrimento, nella crescita muscolare, in tutti quelli che sono i percorsi oggi parliamo di una cosa molto più legata magari alla carriera lavorativa, al lavoro e al proprio benessere personale esatto e poi come al solito il cambiamento parte da un cambiamento mentale quindi nell'approccio a rendersi conto che serve una svolta nel proprio modo di affrontare il quotidiano e poi si traduce che sia un cambiamento lavorativo o semplicemente un cambiamento di routine però è proprio una necessità di modificare dei meccanismi psicologici ecco quindi sicuramente parte tutto da una base psicologica e soprattutto anche i professionisti, i psicologi sanno benissimo che può essere necessario un supporto anche proprio per le persone per accompagnarli in questa svolta io direi di chiederle subito prima di addentrarci nell'argomento cosa ti ha fatto avvicinare a questa diciamo professione che magari oggi qualcuno conosce meno ma è sempre più utile e sempre più in crescita nel mercato di Erno e nella società di oggi? sì allora diciamo che lavorando a contatto con i dipendenti di aziende, i manager comunque nell'ambito lavorativo spesso si incontrano persone che hanno esprimo il desiderio di cambiare lavoro e spesso la prima domanda è vorrei trovare un nuovo lavoro, avrei bisogno di modificare il curriculum però poi andando a rifletterci, analizzare insieme l'aspetto fondamentale è quello di una necessità di cambiare proprio il bilanciamento tra la sfera professionale e la sfera privata che quindi devono coesistere, integrarsi e sono entrambe due sfere dove la persona si realizza, realizza se stessa, realizza i suoi obiettivi, le sue passioni quindi partire dalle passioni della persona per poi andare a modificare tutto quello che ci sta intorno quindi fondamentalmente il tuo lavoro ovviamente è per tutti, cioè non esiste una categoria a cui è rivolto tutte le persone possono usufruire di quella che ha dato professionalità anche perché il metodo utilizzato nel coaching è molto schematico e non c'è bisogno di un approfondimento psicologico questo lo lasciamo ovviamente ai professionisti che giustamente hanno degli strumenti diversi per andare proprio a aiutare nei blocchi, nel disagio noi ci occupiamo di un pensiero strategico quindi si parte dalla definizione insieme di un obiettivo, un macro obiettivo e poi ogni sessione è dedicata a un tema che è la persona a scegliere per dipanare appunto eventuali ostacoli approfondire quali sono le sue risorse e quindi definire delle strategie e in mezzo tra una sessione e l'altra ci sono allenamenti e esercizi che è la persona stessa a scegliersi quindi questo permette anche di sviluppare una tensione all'obiettivo che molto spesso non è allenata quindi esattamente come con la palestra quindi aiutare la persona pian piano a responsabilizzarsi, consapevolizzarsi e raggiungere determinate performance ottimo, diciamo che già abbiamo capito un po' di più una panoramica per le persone a casa molto più specifica di cosa si occupa a Fiammetta e di come veramente oggi è utile a tutti ma partiamo dalle basi, quindi partiamo proprio dall'ABC per le persone a casa quindi abbiamo detto in questi 5 minuti già la parola cambiamento almeno una 20-25 volte quindi partiamo col dire e a spiegarle persone a casa che cos'è il cambiamento e magari come approcciarsi a questa parola che delle volte spaventa esatto, quindi la trasformazione di un individuo può essere un mutamento causato da, diciamo, cambiamento delle condizioni esterne o risiede addirittura all'interno della persona e quindi la persona deve combattere delle resistenze perché molto spesso il cambiamento è accompagnato da quella sensazione di paura, di impossibilità quindi vincere la paura e il senso di impossibilità è l'obiettivo per ognuno quindi per lasciare fluire questo cambiamento e permettere alla persona di raggiungere quello che desidera quindi diciamo che il cambiamento va accolto anche perché, come dicevamo prima, magari soprattutto oggi in un mondo così dinamico è una costante piuttosto che combatterlo e dire no, io ho sempre fatto così, sono così, continuerò a fare così e quindi va abbracciato esatto, oltre ad essere una costante è anche inevitabile quindi volenti o non volenti siamo portati al cambiamento quindi serve semplicemente consapevolizzare le proprie risorse per rimuovere quegli ostacoli che ci impediscono di ottimizzare le nostre energie verso una determinata meta quindi l'accompagnamento al cambiamento deve partire innanzitutto da una presa di consapevolezza e dalla volontà di lasciarsi andare a questo cambiamento quindi il cambiamento, diciamo, prende tutte le aree perché prima abbiamo parlato di, abbiamo parlato, noi l'abbiamo visto tante volte a livello del corpo quindi per un risultato fisico, per un risultato di salute per una situazione lavorativa che poi può essere poi sulle relazioni quindi diciamo prende tante aree abbiamo visto insieme un po' quello che può essere le varie aree, corpo, energie prima parlavamo insieme, se mi puoi approfondire questa tematica sì, infatti coinvolge tutto il cambiamento parte anche proprio dalle emozioni che si hanno la sensazione di necessità oppure di disagio che ci fa capire che qualcosa nella nostra vita va modificata da lì quindi anche il corpo a risentirne sia negativamente ma anche positivamente c'è sempre un periodo magari iniziale di timore poi anche di euforia in cui la persona cavalca appunto l'onda della novità e quindi ha un input a essere positivo, ottimista e quindi è spinto anche magari da circostanze esterne a dover modificarsi a quel punto bisogna anche capire bene quali sono appunto questi livelli energetici e in quali momenti della giornata ci accompagnano quindi riuscire a sfruttare quelle energie che in determinate situazioni sono positive e si accumulano quindi come una batteria per affrontare invece quei momenti sia della giornata, della settimana o anche in un periodo dell'anno dove invece siamo magari più scarichi perché abbiamo delle sfide abbiamo dei carichi, dei pesi anche familiari o personali che ci opprimono quindi riuscire a consapevolizzare anche queste risorse che noi abbiamo che appunto derivano sia da ormoni corporei Facciamo proprio un esempio pratico di quando può essere magari un momento down chiamiamolo, quindi un momento di punto più basso in cui l'energia siamo scarichi e magari il momento in cui invece siamo più propositivi e abbiamo voglia di fare che tanto più o meno capita a chiunque nell'arco della stessa giornata Certo, poi banalmente ci sono proprio dei momenti tropici come possono essere le prime ore del mattino dove la persona si sveglia e quindi ha un bagaglio energetico massimo mentre magari i momenti di scarso livello energetico sono quelli serali quindi cavalcare l'onda e mettere magari degli impegni che ci ricaricano nelle prime ore della mattina è preferibile rispetto alle ore serali e lo stesso durante la mattinata sicuramente dopo pranzo, se uno pranza abbondantemente è ovvio che le energie caleranno a quel punto dobbiamo dedicare delle attività che dopo pranzo siano a risparmio energetico quindi dobbiamo pianificare, avere un'attenta pianificazione di tutto quello che facciamo in base a quello che sappiamo essere dei momenti di top o di down nella giornata e stesso vale per le cose che gli eventi che ci capitano e influiscono su di noi quindi se ci sono circostanze esterne che ci buttano giù a livello psicologico dobbiamo compensarle con altre attività che invece ci scatenano proprio a livello fisico delle energie quindi sicuramente l'attività fisica scatena l'adrenalina, le endorfine e quello è un buon modo per combattere invece influssi negativi esterni quindi sicuramente andare a farsi una corsa o fare un allenamento quando hai avuto una giornata dove magari è successo qualcosa che ci ha reso triste o sconfortato ci aiuta poi ad affrontare le giornate che seguono una sorta di valvola di sfungo esatto, sì quindi Fiammetta se ho capito bene fondamentalmente il tuo lavoro serve anche ad aiutare le persone a saper gestire la propria giornata cioè come ci raccontavamo anche prima io per dire sono abbastanza tipico in questo senso io tendenzialmente mi trovo più a mio agio nelle cose dinamiche nelle cose che mi richiedono energia più nella seconda parte della giornata la mattina in grano più piano, più lentamente quindi avere una guida avere una persona che ti istruisce ti aiuta a scoprire anche magari la tua essenza, le tue capacità e come gestire la tua routine che magari ognuno ha la sua la sua organizzazione, il suo programma, la sua settimana magari è fondamentale nel lavoro e nella quotidianità infatti per questo non c'è una ricetta per massimizzare le energie c'è un ascolto attivo anche da parte del coach per capire la persona che abitudini ha che livelli energetici ha quali sono le sue aspirazioni di benessere e come le sfrutta mi è capitato spesso che magari appunto si parlasse di una necessità di miglioramento delle performance professionali e mi viene in mente magari una persona che fa il venditore quindi ha necessità sempre di essere ottimista e positivo verso l'esterno che appunto aveva dei cali di motivazione quindi lui ha trovato da solo la sua soluzione che era quella nei momenti di down di andarsi a fare la corsetta e la corsetta la faceva magari in pausa pranzo però questo ci è arrivato lui da solo quindi dopo aver analizzato magari situazioni passate dove appunto aveva scoperto che questa era un'attività che gli piaceva fare è riuscito a trovare anche lo slot giusto di tempo quando farla e perché c'è la motivazione che scatenante era quella del devo trovare le energie per essere positivo quindi sicuramente è un lavoro di accompagnamento più che di dare indicazioni perché è la persona stessa che trova la sua strada questo si sposa molto anche con il nostro lavoro cioè fondamentalmente anche quando segui le persone sotto il punto di vista fisico se c'è un cambiamento importante da fare devi intervenire diciamo sempre sullo stile di vita amichi cioè quando uno deve cambiare completamente le abitudini perché le ha sballate, le ha errate, mangia nella maniera sbagliata si allena nella maniera sbagliata e noi possiamo istruire, possiamo trovare la strada giusta possiamo mostrare la via poi chiaramente il cambiamento viene sempre dalla persona c'è lo switch, il reale cambio di marcia la persona la metabolizza senenzialmente da sola quindi anche nel tuo settore è la stessa cosa esatto, è molto bello anche perché tra le strategie come già anticipato fiammetta per avere più energia per migliorare, essere più performante al lavoro sulle relazioni poi i campi in cui possiamo intervenire come abbiamo visto anche nelle precedenti puntate sono per esempio l'allenamento quindi uno scarico adrenalinico e ormonale l'alimentazione perché come diceva prima Fiammetto è chiaro che se io ho un appuntamento importante devo essere performante a pranzo mi scofano si dice scofano sì come mi scofano qualsiasi cosa è normale che le energie saranno nella digestione piuttosto che nell'attività che dovrò andare a fare invece io a differenza di Tommy Fiammetto è performante la mattina invece io la sera mi spengo piano piano e anche presto quindi abbiamo due personali però per far capire a casa le persone che poi ogni persona è a sé e come qualsiasi percorso le strategie sono personalizzate sia per l'obiettivo che una persona ha e magari ci aiuti a capire anche quello che può essere l'obiettivo sia per le proprie abitudini che devono essere cambiate ma in direzione di una sostenibilità perché magari a me se mi dovessi fare cose molto la sera performerò peggio e Tommy meglio al contrario la mattina quindi dove possiamo partire per fare tutto questo cambiamento sicuramente dalla definizione di un obiettivo specifico è misurabile spesso immagino anche nel vostro lavoro arriva la persona e dice io voglio stare meglio voglio migliorare forma fisica forma mentale però non è abbastanza specifico bisogna proprio identificare il cosa ti fa stare meglio e il come arrivarci quindi lentamente si va a definire sempre più un obiettivo specifico misurabile e quindi che ha una scadenza il cosiddetto obiettivo smart che poi ci fa rendere conto anche di come possiamo monitorare quei risultati ottenuti quindi questo obiettivo lo si divide in micro step in modo che non ci sembri così lontano da raggiungere ma si deve appunto festeggiare ogni singolo raggiungimento quindi questo è anche importante dal punto di vista motivazionale da dove partire? se si parte da una motivazione estrinseca quindi qualcuno che ci dice che lo dobbiamo fare questo cambiamento o situazioni esterne a volte magari situazioni critiche che ci portano a a porci del domande a farci sentire la necessità del cambiamento mi immagino una persona che magari nel mio caso spesso qualcuno che ha perso il lavoro oppure è stato demansionato quindi si deve riadattare però la motivazione deve partire principalmente dall'interno quindi può esserci un primo fattore scatenante che può essere esterno mi immagino anche un ragazzo che deve iscriversi all'università o fare gli esami e ci sono i genitori che lo prestano quindi quella è la motivazione estrinseca situazione molto comune penso esatto però poi ci deve essere un atto di volontà e quindi la persona deve prendere consapevolezza che quell'obiettivo che gli viene dato da fuori in realtà è un suo obiettivo personale lo deve far diventare il suo il suo standard il suo il suo manifesto di valori e quindi è importante per se stessi raggiungerlo a quel punto scatta qualcosa e si capisce che ci sono degli strumenti a disposizione per poter raggiungere quell'obiettivo quindi la persona è più inclina a analizzarsi e raccogliere tutte le energie a disposizione e tutte le risorse a disposizione che possono essere sia le capacità intellettive relazionali possono essere delle capacità fisiche ovviamente questo poi a seconda che l'obiettivo sia una performance appunto di allenamento fisico quanto una performance professionale ci sono determinate caratteristiche che sono intrinseche alla persona che si possono sviluppare allenare e a quel punto la persona può andare a a provare a pianificare una strategia a volte e spesso ed è così sono le relazioni esterne i contatti che uno ha anche a supportarlo perché è importante circondarsi di persone supportive quindi non giudicanti nel momento in cui la persona sta affrontando un cambiamento e frequentare ambienti che lo favoriscono ovvio che se io voglio seguire le mie passioni la mia passione è la danza ma in famiglia mi dicono tutti che non andrò mai da nessuna parte sarà molto più faticoso molto più complicato la motivazione intrinseca è forte però forse non abbastanza quando ci sono delle influenze negative esterne a quel punto sono io che devo capire che devo inserirmi in un ambiente favorevole quindi sono io stesso che mi sposto in un ambiente più favorevole per massimizzare quell'energia a disposizione questo è molto è molto bello chi è riuscito a seguire il discorso della motivazione fa capire tanto quante volte quando una persona inizia un qualcosa poi smette proprio perché non ha quel supporto non ha un ambiente magari potenziante che gli dice anche al primo errore al posto di dire ah hai sbagliato dice dai tranquillo come quando vai in bici cadi ti rialzi ci riprovi ricadi e poi ce la fai e questo penso che sia fondamentale un ruolo è una cosa importantissima delle volte magari crederci più di quanto ci possa credere la persona stessa esatto proprio perché purtroppo magari oggi l'ambiente esterno non è proprio simpatico no o che ti sproni a fare sicuramente ci sentiamo sempre sotto i riflettori sempre giudicati e quindi ogni minimo errore in decisione può essere messo sotto la lente di ingrandimento d'altro lato questo però ci può favorire perché proprio come ci sono tanti ambienti che possiamo frequentare ci sono anche tanti contatti e contatti positivi che possiamo sfruttare il ruolo del coach in questo senso è fondamentale perché è proprio un facilitatore quindi ti aiuta a scoprire le risorse ti aiuta a tenere duro nell'allenamento a celebrare i risultati ottenuti oppure dove non ottenuti a ragionare su possibili strategie migliorabili quindi non è mai un occhio che penalizza l'errore ma lo sfrutta per migliorare la strategia quindi sicuramente questo è fondamentale se uno deve avere obiettivi sul lungo periodo da portare avanti quindi ha necessità di un supporto che lo accompagni per più tempo e quindi per non mollare io penso anche quanto nel nostro settore nel mondo dello sport della palestra dell'attività fisica quante volte magari sentiamo le persone che non riescono a coltivare lo sport coltivare semplicemente andare in palestra perché non trovano magari l'ambiente giusto per loro c'è chi c'entra in una struttura non avendo esperienza lo stereotipo della palestra nel mio pensare potrebbe essere questo capito perché sono tutti uguali quando invece magari chi fa veramente la differenza è chi lavora all'interno della struttura quindi non tanto perché una struttura prescindola che sia migliore rispetto a un'altra ma quello che possiamo dire alle persone a casa è che quando ci si affida un professionista spesso è importante capire anche se a livello empatico se a livello di feeling se a livello di entusiasmo che c'è da entrambe le parti ci si trova cioè non sempre magari anche noi nel nostro settore il nostro mestiere riusciamo a creare questo legame con la persona che seguiamo però è una prerogativa cioè ci sono tanti professionisti in giro tante strutture tante persone che lavorano ed è importante non non farsi prendere da quello che è lo stereotipo di quel primo approccio ma non non fermarsi esatto e soprattutto è la relazione facilitante quella che che fa scattare l'empatia l'ascolto e quindi la persona si sente accolta questo penso sia per tutte le professioni così dallo psicologo al personal trainer al medico al coach qualsiasi persona che entra in relazione deve essere diciamo un'affinità deve crearsi un'affinità che permette alla persona di dare il meglio di sé e scoprire quei lati che siano risorse per lui assolutamente perfetto io direi che già abbiamo detto tanto tantissimo e quindi facciamo una piccola pausa e torniamo subito tra due minuti a tra poco eccoci qua siamo tornati per questa bellissima puntata sul cambiamento possiamo dire quindi su tutta quella che è la motivazione giusta ad avere durante la propria giornata sul proprio lavoro sulla propria routine sullo sport su tutti gli ambienti possibili immaginabili perché abbiamo un ospite speciale che si occupa proprio di questo esattamente fiammetta grazie ancora per l'invito e per aver accettato il nostro invito e continuiamo visto che abbiamo parlato delle abitudini per chi portano un cambiamento in una delle aree della vita e quello che è la tua professione quindi life and career coach andiamo a vedere un po' quelli che sono gli strumenti quindi come parlavamo prima cioè cosa possiamo fare cosa dobbiamo fare per migliorare esatto allora noi prima dicevamo appunto che è molto difficile attuare il cambiamento ma per una questione fondamentale che è quella delle resistenze interne quindi la persona solitamente è bloccata o dalla paura o a volte anche dalla semplice pigrizia di dover rivoluzionare quella che è la sua area di comfort Tommy appunto diceva che spesso anche le persone che vanno in palestra poi dopo un po' mollano dopo poco perché non si sentono a loro agio in realtà la questione fondamentale è proprio quella di instaurare una nuova abitudine quindi nuove abitudini di vita nuova routine quotidiana creare la nuova routine è fondamentale e anche questo sembra all'inizio complicato ovviamente non si deve pensare dall'oggi al domani cambio tutto ma sono piccoli piccoli step che uno deve fare piccoli cambiamenti quotidiani che deve introdurre quindi se il suo obiettivo è raggiungere la forma fisica e quindi deve inserire nelle sue giornate l'allenamento e magari anche associato ad una dieta dovrà iniziare con una prima settimana di prova quindi prima comincia a cambiare le sue abitudini alimentari ovviamente spesso sotto una guida di un professionista e lo stesso il suo allenamento come dicevamo prima è importante anche capire i propri livelli energetici quindi cos'è che ci rende più più facile affrontare il cambiamento se uno ha al massimo delle sue forze la mattina o la sera o il pomeriggio quindi dovrà inserire nella sua agenda un allenamento in queste fasce in queste fasce orarie e successivamente attuare anche una dieta che appunto gli permetta di sfruttare questi livelli energetici oppure addirittura produrli quindi sicuramente se voglio aumentare le endorfine devo mangiare la cioccolata ma non posso abbuffarmi quindi anche lì sicuramente bisogna stare attenti al messaggio che si manda a che tipo di alimentazione e che tipo di restrizioni devo avere quindi sicuramente è importante capire anche quali sono i cicli emotivi anche del cambiamento quindi questi due studiosi degli anni 2000 hanno creato questo studio dove appunto Kelly e Connor definiscono quali sono le emozioni che accompagnano il cambiamento c'è una prima fase di euforia che è quasi ingiustificata che è quello che ci prende tutti una sorta di innamoramento verso le novità arriva subito dopo una fase di estremo pessimismo quindi è la paura che prevale il timore di buttarsi in qualcosa che è fuori dalla nostra area di comfort e spesso questa valle della disperazione come la chiamano dura molto tempo ed è quella che poi inficia il raggiungimento dei nostri obiettivi perché dopo questa fase se non riusciamo a risalire spesso abbandoniamo proprio il nostro progetto è importante quindi fare un passettino alla volta prendere in considerazione un progetto alla volta quindi se il nostro obiettivo è rimetterci in forma puntiamo su quello non cominciamo a mettere n progetti quindi se abbiamo anche altre cose in cantiere dobbiamo focalizzarci solo su una non possiamo pensare al trasloco e nel frattempo magari ad altre cose quindi dobbiamo essere molto parsimoniosi proprio perché le energie devono essere incanalate in modo tale che riusciamo a portarlo a casa è importantissimo tener duro per dicono gli studiosi 90 giorni quindi se riusciamo a introdurre delle piccole modifiche nella nostra routine quotidiana per 90 giorni queste modifiche diventeranno strutturali e ci permetteranno di avere proprio una routine instabile e quindi le nostre abitudini di conseguenza saranno modificate in modo permanente quindi riusciremo a superare la valle della disperazione arriverà una sorta di realismo una visione oggettiva quindi questa può essere anche stimolata autoindotta se vogliamo da un ragionamento che è quello di bilanciare i pro i contro quindi i costi benefici di quello che stiamo facendo è importante focalizzarci soprattutto su quello che quello che stiamo facendo ci può portare quindi ridefinire un'immagine una nuova immagine di sé le immagini che noi desideriamo quindi immaginarci in quella veste che ci crea piacere sono un professionista sono una persona con il fisico in forma sono una persona che è brava nelle relazioni è una persona valida quindi questa visione nostra ci fa lo stesso a livello emotivo stare bene con noi stessi e crea ulteriormente una motivazione un'auto efficacia quindi riusciamo a superare questi famosi 90 giorni e dopodiché arriviamo al raggiungimento dell'obiettivo con una visione appunto ottimistica però oggettiva quindi possiamo dire che è una sorta di percorso verso la versione migliore di se stessi esatto la nostra visione la nostra visione del futuro desiderato noi ci stiamo ponendo questo una visione di noi stessi nel marzo delle nostre potenzialità quindi sicuramente questo è importante ottimo anche perché diciamo che lo vediamo sempre chiunque a casa ci ascolti se hai iniziato una dieta magari hai fatto la prima valutazione dal nutrizionista dietologo dietista c'è una tempistica di 7 giorni magari per riceverla e diciamo c'è l'euforia iniziale no la voglio fare subito subito la voglio adesso perché devo iniziare devo iniziare appena arriva e già uno dice però fagiolini fagiolini il farro l'insalata e diciamo si sprofonde in questa fase quindi chiunque l'abbia vissuto in qualsiasi area sappiate che è normale la differenza la si fa proprio nella fase di down quindi nella fase in cui non va bene non riesco ho più difficoltà perché è un periodo proprio di adattamento e chi riesce a perseverare perché alla fine la magia e i trucchi non esistono in qualsiasi modo parliamo sempre di salute fisioterapia allenamenti riabilitazione eccetera non c'è magia c'è perseveranza nel tempo e in qualsiasi area che si voglia migliorare si fa questa differenza quindi la tua professione è un po' questo prima hai usato la parola facilitatore che mi è piaciuto tanto mi è piaciuta tanto quindi un po' il tuo ruolo adesso andiamo a vedere in cosa puoi effettivamente il ruolo del coach può aiutare le persone che perseguono un obiettivo di cambiamento certo e infatti come abbiamo già espresso prima avere qualcuno di supportivo al fianco è sicuramente importante e le persone appunto spesso si rivolgono a professionisti sia quando devono fare appunto un cambiamento fisico partendo magari dalla nutrizione oppure un cambiamento professionale hanno bisogno di qualcuno che sia dalla loro parte ed è importante che il coach ascolti le esigenze della persona senza tarpargli le ali quindi il ruolo del coach è quello di un ascolto che implica appunto questa parte di facilitazione perché è la persona stessa definire gli obiettivi e le strategie perché ha tutto un bagaglio di sue esperienze già viste già vissute e da quelle esperienze passate che trarrà gli strumenti per superare le difficoltà e quindi sicuramente l'obiettivo è più facile da raggiungere nel momento in cui la persona non si focalizza sugli aspetti deteriori o più faticosi e se penso a dieta appunto come dicevamo se penso al farro e ai fagiolini che mi aspettano a pranzo sicuramente mi verrà un po' di calo emotivo però se penso che poi il pomeriggio andrò in spiaggia e mi sentirò bene nel costume allora a quel punto la mia visione di me stesso sarà diversa e sarò più motivato a tenere duro il coach aiuta in questo senso a consapevolizzare la persona su che visione di se stesso vuole avere quindi non tanto nel fai questo fai quello perché lo devi fare ma perché lo vuoi fare quindi concentrarsi su perché lo vuoi fare aiuta la persona a rimanere concentrato quindi fondamentalmente il coach è determinante per la costanza cioè quell'appuntamento fisso con il professionista con la persona che ti segue ti aiuta nel mantenere focus il focus sul loro risultato no? sicuro e Michi ha sfornato una frase bellissima qualche tempo fa se l'ho sfornata allora è buona sicuro è una citazione proprio di Michi che un giorno ha fatto un bellissimo post dove ha scritto la costanza è il ponte tra l'obiettivo e il risultato cioè che è facile porsi un obiettivo poi concretizzarlo esatto è sempre più complicato no? è per questo che si usano appunto gli obiettivi tra virgolette smart perché se lo rendo specifico e misurabile quindi mi do anche dei tempi di monitoraggio riesco ad essere maggiormente focalizzato e costante c'è un piano d'azione quindi una strategia da pianificare e ci sono anche degli esercizi che la persona fa in autonomia tra una sessione e l'altra diciamo che quindi il ruolo del coach è relativo perché il lavoro lo fa la persona e lo fa soprattutto quando non ci si vede cioè la persona sceglie di allenarsi a distanza da un accompagnamento e l'altro quindi questo allenamento questa esercitazione costante permette alla persona di rimanere concentrata benissimo quindi diciamo che anche parlando prima il coach diciamo quindi la tua figura aiuta se una persona non sa bene anche che direzione prendere perché è vero che adesso abbiamo parlato delle situazioni alcune situazioni che magari riscontriamo noi nel quotidiano di cui abbiamo già parlato in puntate precedenti quindi la perdita di motivazione o altro ma se ci sono persone che stanno vivendo un cambiamento ma non sanno dove andare non sanno che strada scegliere il coach può aiutarli in questo giusto? sicuramente e questo è un po' una sfida che ci si pone perché non è il coach a definire un ventaglio di possibilità anche se a volte le persone che si approcciano soprattutto per i cambi lavorativi iniziano appunto per questo motivo quindi perché vorrebbero un ventaglio di possibilità le possibilità ce le si crea da soli nel senso si deve partire dal cosa ci piace cosa sappiamo fare cosa possiamo imparare a fare questo su tutti i fronti perché anche nell'allenamento fisico è così bisogna partire da cosa ci piace fare cosa sappiamo fare cosa possiamo imparare a fare perché anche lì è una questione di imparare a come allenarsi quindi partendo da lì le possibilità si dipanano davanti alla persona e quindi andrà lei stessa a escludere invece quelle attività che non gli portano benessere e focalizzarsi invece su quello che sono la massimilizzazione di quello che effettivamente è questo però è un messaggio molto profondo forse anche perché spesso quando con le persone si parla di obiettivi si parla di risultati anche nel nostro lavoro noi parliamo prettamente di risultati fisici di salute di benessere per vedersi meglio e per arrivare a uno status fisico però anche a livello mentale è fondamentale c'è la ricerca della propria virtù di scavare dentro se stessi e capire e trovare la propria peculiarità c'è la propria strada veramente quello che è il nostro reale obiettivo e forse anche reale posto nel mondo è la cosa più più difficile forse è anche la cosa più bella perché spesso quando a una persona gli facciamo la domanda di che cosa vorrebbe fare veramente nella vita qual è il suo sogno nel cassetto cose varie spesso è un po' mistificata questa cosa come se dovessimo tutti fare gli attori i cantanti e quelle cose che le vediamo così lontane così impossibili quindi non è un dare una falsa aspettativa alle persone non come il sogno americano che tutti possiamo fare tutto in America c'è molto questa cultura del volere potere in realtà mantenendo sempre i piedi molto bene per terra serve tantissimo nel cercare di trovare realmente quella che è la propria strada non precludendosi comunque nulla esatto e appunto partendo da quello anche che sono le piccole esperienze quotidiane se io so che ho determinate capacità magari artistiche sicuramente escluderò magari quei lavori o quelle attività che sono ripetitive e che sfruttano poco la mia creatività questo partendo dalle piccole cose e soprattutto dal presupposto che non c'è un'unica vocazione un unico percorso stabilito a cui siamo chiamati ma ci sono tante porticine che noi possiamo aprire all'occorrenza quindi si può cambiare strada a metà della vita ci si può accorgere che ci fa piacere fare determinate cose piuttosto che altre quindi basta semplicemente consapevolizzare le risorse che uno può avere a disposizione o che può acquisire ovviamente magari in tempi in tempi consoni ovvio che se io mi sveglio a 50 anni e decido che voglio fare l'austronauta per forza di cose sarò penalizzato però ci sono altrettante attività che possono stimolare quelle stesse mie attitudini che magari non sono fare l'austronauta ma ci si possono ci si possono avvicinare quindi non so lo studio delle stelle dell'astrofisica può essere una soluzione ma non sarà non sarà il coach a definirlo sarà la persona che si accorge di che strada può intraprendere piano piano nel percorso di scoperta di sé diciamo che la chiave è anche dare un valore alla propria vita cioè quindi dare il giusto valore a quello che è la nostra vita quello che è il nostro lavoro quello che è la nostra quotidianità perché non c'è una cosa che è più importante rispetto a un'altra forse è l'interpretazione che gli diamo che è fondamentale sicuro sicuramente noi siamo sempre pronti ad interpretare secondo la visione altrui o comunitaria in realtà ognuno deve interpretare secondo quelle che sono le sue corde più profonde quindi è importante sicuramente fare un lavoro di ragionamento interiore quindi quello è fondamentale ottimo diciamo che stiamo arrivando alla conclusione di questa bellissima puntata e volevo farti una domanda nel finale quindi oggi abbiamo parlato della figura del coach di come funziona e di come si inizia a intraprendere il cambiare le abitudini per raggiungere un benessere che poi è molto ampio come parola se dovessi dire ovvio che le aree sono tante a tuo avviso la cosa l'area più importante cioè l'area che incide di più nelle persone per far sì che il cambiamento avvenga non so la motivazione intrinseca come parlavamo prima quella esterna l'ambiente circostante non lo so se nel tuo percorso mia curiosità secondo te quale può essere quella cosa l'ago della bilancia sì non ti sto dare una risposta univoca perché anche quando si studiano i talenti ci sono molti studiosi che hanno analizzato anche le vite dei geni e i fattori per la genialità e per lo sviluppo personale sono tanti sicuramente devono appunto essere più di uno e magari in determinati periodi della vita quindi non tutti i periodi della nostra vita sono consoni diciamo che tutto accade al momento opportuno quindi il supporto di una persona esterna o comunque di un ambiente favorevole è fondamentale ma sicuramente la cosa primaria è la volontà la volontà di avere la visione di sé che desideriamo quindi avere ben chiaro chi vogliamo essere è l'aspetto principale soprattutto capire quali sono profondamente i nostri desideri quindi come dicevamo prima l'analisi l'analisi personale farsi proprio un esame di coscienza di chi vogliamo essere come vogliamo esserlo è un po' la ricerca della felicità no? che non è quella degli altri è la propria la propria ottimo io direi che siamo arrivati alla fine siamo arrivati quindi è stata una puntata molto molto bella e anche diciamo per le persone che ci hanno seguito da casa che ti mette un po' alla prova ti fa fare qualche domanda di ispirazione si di ispirazione bravissimo non mi veniva la terminologia corretta quindi io direi per concludere che anche oggi abbiamo il nostro quizone super difficile così vediamo se le persone ci hanno seguito e risponderanno nella maniera corretta e direi di farlo leggere a fiammetta quindi mettiamo subito il nostro quizone di oggi a lei l'onore vediamo se le persone sono state attente da casa allora quanti giorni devono passare per superare la valle della disperazione dicevamo a sono sette giorni b 15 giorni c 30 giorni d 90 giorni quanto mi piace questo valle della disperazione valle della disperazione chi non ha seguito ma quando è che hanno parlato della valle della disperazione invece era molto ottimista sembra un film il titolo di un film quando è successo questa situazione questa puntata la chiamiamo così la valle della disperazione assolutamente sì sperando di non demotivare gli spettatori no sicuramente è stata dispirazione come ha detto benissimo Tommy per le persone per anche mettersi in gioco farsi un attimino guardarsi dentro e vedere se si può cambiare perché si può migliorare a qualsiasi età prima facevi l'esempio di una persona di 50 anni magari molte volte c'è questa limitazione anche di età detto questo io saluterei il nostro ospite di oggi grazie Fiammietta grazie a voi per il tuo tempo ringraziamo anche la traduzione di Fano TV per averci dato la possibilità di questo bellissimo speciale estivo ricordiamo i nostri telespettatori che ci vediamo a luglio quindi nel mese di luglio prepareremo un altro bellissimo speciale in previsione poi di quella che sarà tutta la prossima stagione invernale che possiamo già dire che da ottobre riseremo più assidui quindi in onda tutte le settimane come abbiamo fatto questo inverno ringraziamo tutti da casa e ci vediamo al prossimo speciale alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti